Allora, io su quelli de calcio non mi li spoilerò, quindi l'ho solo comprato. Non sono andato a vedere niente perché de norma negli screen te mettono gli screen delle squadre. Solita musica di qualsiasi gioco di sport. Famoser mondiale. Regà, difficoltà? Difficile. Turchia, Italia, Galles, Svizzera. È pulito. È in girone facile. Già, ma era il girone vero del 2021. Ma è vero. Ma questi sono gli urubai che abbiamo vinto. 50 sub giftate se la finale è Italia-Inghilterra e la vinciamo ai rigori. Ma chi è quel sorcio? Ragazzi, Dante Greco, Andrea Basile, Gio De Angelis, Alessandro Conte in porta. Io l'ho sempre vinta, queste cose. Palla alta! È perfetta! Dante Greco. Oddio, Dante Greco! È il palide di Dante Greco! Giuseppe Bruno. Giuseppe... Ma è broguenissima sta cosa del... È il Wallace, vabbè. Anzi. Bellissimo! Bello, filtrante! Mezza bianchi! Calcio in rete! Oddio! Bello! E va in porta, rincoglionito! Perde palla, si gira. Cross è perfetto. Oddio! È incontenato! Mezza bianchi! Niente, il primo tiro in porta, gol. C'è Luigi! Non si può fare il Sarri Ball. Gioca la palla a Dante Greco, che si fa autogol. Palla dietro ad Alessandro Conte. X in avanti, autogol all'indietro. Che però qui rischia! Dante Greco! Dante Greco! Dante Greco! Ma che fa? Bellissimo! Al volo! Porco Dio, zi! Ma che cazzo di gol me sto a inventà? Anzi, può giocare così. Ma dai, nove tiri a due. Mi sono rischiato di pareggiare la partita. Ma posso simulare. Vabbè, c'è la Turchia. Amo perso. Amo scagliato 2 a 1. E allora, regà, questa va giocata. Contro la Svizzera va giocata e tocca fa 6.000 gol. Anzi, tanto guarda che fai. Fai a Coniglio de Tokyo. Guarda. Così. Si rompe la difesa. Porco Dio, perché non si è rotta la difesa? Palla alta. Dante Greco. Dante. Gre. Co. Luigi D'Amico due volte vede un filtrante geniale. Luigi D'Amico dà una palla strepitosa. E Dante Greco ammazza il difensore praticamente. Dante Greco lasciato colpevolmente solo. Dante Greco. Dante Greco. Dante Greco. Dante Greco. Dante Greco. Dante Greco. La porca madonna. Dante Greco. Buon birvero. Mi pare. Una munizione di Cristiano Ronaldo alla Juve, regà. No. No, sì, no. No, sì. No, sì. È il gol da merda, no. Ma sono diventati dei fenomeni. Stranamente il Galles starà a vincere. Stranamente mi serve la differenza. Redi sul 2-0 fanno due golle che sono incredibili. Palla lunga. Passaggio per Dante Greco. Guarda che parate. Ragazzi, ma si è scriptato palesemente il gioco. Palla in avanti. Porco Dio. Ma ragazzi, è di uno script allucinante. Stanno a vincere tutti i contrasti. Scatta Dante Greco. Ma che cazzo fai? Dante Greco. O ci ha fatto una grazia la Turchia, regà. O siamo fuori. Ma vai a cagare. Stranamente la Turchia va a pareggiare 1-8. Va a pareggiare quanto? 0-0. E il biscottone! Siamo passati da miglior terza. Porco Dio, che bucio di culo. Contro la Danimarca. Siamo vivi. Porco Dio, sì. C'è sta Olsen, Johansen, Lavesen, Weversen, Scoff. Mazza, oh, che fantasia devo ammettere. Il gioco è palesemente scriptato. Cioè, quella partita era palesemente scriptata, zi. Gol. Dante Greco, che puntualmente prova sti gol della Madonna. Dante Greco, sempre. Dante Greco! Fa un gol inzezzato! Fenomenale, zi. Il portiere è un fenomeno comunque, incredibile. Dante Greco! Rovesciato da inizio aria! Dante Greco fa il gol dell'anno! Voleva imitare Zlatan! Coglio, ma tirano dei bolidi, regà, comunque. Il figlio dei Zaccagni è dei Dante Greco. Sì, vabbè ragazzi, è un fenomeno. Cioè, è un fenomeno. No! Abbiamo Dante Greco e oggi Mancini ha convocato Manolo Gabbiadini. Gioca benissimo, palla per Dante Greco, che ha il volo! Rischia di fare un poker strepitoso. Palla alta di nuovo. Presa dall'Italia. Palla alta per Dante Greco! Ma ogni tiro che fa è un gol. Ma è R9, zi. Easy. Dante! Dante! Mezza Bianchi! Non ce va. Non gli va. Non gli andava ad andare su quel pallone. Ma come si era girato Dante Greco? Tanta, la prossima partita si dovrà scriptaccia, la metterà contro... Easy. Mezza Bianchi al centro del villaggio. Ma che è andato? È andato a sfriggiato alla Roma! 4-1. Vabbè, ce posso stare. Mi dispiace per Antonio Conte in porta, che voleva fare il cliché. Ragazzi, la Finlandia batte la Germania, la Macedonia batte il Portogallo. Oh, Teresa, finale Italia-Macedonia. Oddio, rega... No, ragazzi. Regà, se passiamo contro la Finlandia, ci sta la semifinale contro quei figli di puttana delle turchi. Contro i biscottari. Beccate in gol dei Federconti. Beccate in gol dei Enzo Ferri. Regà, vanno a 3.000. Vanno a 3.000, paresemente in un'altra squadra. Dante Greco, la gira per mezzo a Bianchi! Che scatta sulla fascia! Ma svegliate, dagliela prima! Finlandia subito sotto, con l'ennesimo gol di Dante Greco! Palla per Dante Greco! Dante! Dante Greco! 1-0! No, Gordetesta, cross di mezza... A mezza Bianchi, ma che cazzo fa a mezza Bianchi? Sta porco Dio de' pippa! La mette nelle mani del portiere che rinvia! Palla per... È gol, è gol de' rovesciata di Dante. Da mezza Bianchi a mezza Sega. Hamburgerona, finalmente un degno avversario. Dante Greco portaci la coppa. Rubi palla da Clascosta, quadrato in avanti, palla per Dante Greco. Dante Greco al volo, tiro, traversa. Comunque, sì, porco Dio, prima si era proprio scriptata la partita. Queste non sono scriptate, palesemente. Sarribollo dell'Italia. Palla in avanti proprio per Dante Greco, che la lascia a scorrere. Si è diventato stupido Dante Greco. È Dante Greco, fa gol. Dante... È un macigno. È una macchina senza senso. Cross in avanti per Dante Greco, che tira al volo. Vende l'incrocio dei panni. Finlandia che spinge, ma è l'ottantesimo. Dante Greco non pensava ci fosse qualcuno. Passa la palla, che in realtà diventa un tiro. Ma è palesemente non se... Ma è palesemente non se... Porca madonna! Ma che c'hai i pantofoli d'oro, zi Dante Greco? C'è il piombo sotto l'estanteo! Macedonia che passa contro l'Austria. Spagna che passa contro la Croazia. Io... Io c'ho una voglia di simularla, regà. Mi sembra di vedere. Guarda la Turchia come... Ma che cazzo sta a fare? Il trucco di peste per fare tre gol in uno! Italia! Che riparte! Dante Greco! Dante Greco! Guarda, eh. Guarda, zi, è quel game. Guarda, zi, è palesemente quel game. È palesemente quel game. Guarda, Dan... Porco Dio, quanto sei forte. Porco Dio, quanto sei forte. Porco Dio, quanto sei forte. Dante! Greco! Palla in avanti. Palla per Dante Greco. Che si gira. Guarda la porta. Vace, porco Dio, vace, Alessandro Conte! A mezzo de' merda! Porco Dio, ha sfregio quello. Palese. No. Come, volevo andare avanti. Però mi sembra strano, zi. Mi sembra strano, zi, che costi sette. E... Easy. Le partite su Dazorm si vedono così. L'inferno è un luogo di sofferenza e disperazione, ma ha sempre suscitato un grande fascino nell'umanità. Illegale. Dante Greco. Il viaggio di Dante attraverso l'inno. Il nuovo, il nuovo inno per Dante Greco, eccolo qui. Guarda, se la mette da qua, è scriptata. Alessandro Conte, gliela leva! Da sotto al sette! Italia che riparte con Dante Greco! Dante! Dante! Dante Greco che si alza la palla contro il portiere! Dante Greco! Posso entrare nella porta con la palla? Ah, almeno una... No, no, mi sta venivando! Ma che cazzo è? Tormella monaca, zi! Era... Eh, zi, era un esperimento scientifico! No, ragazzi, guarda se me devo prendere... Porco... Guarda se me vanno a fare gol, eh! Guarda... No, non ci vuoi... Se pia la porta è gol! No, eh! No, la beffa arnovata! Ennesimo calcio in rete! Palla che rimane lì! Tempo totale! La lotteria dei calci di rigore! Oh, Teresa de Carcutta! Mezza Bianchi la mette! Eh, ha mette la puzza! Mamma mia... Sì, è la madonna! E come cazzo li prendo i tiri io, allora? No! Mamma mia, tante greco la merca! A Macedonia che elimina il Portogallo, l'Austria e la Spagna, a finale che poteva essere tipo la rivincita, un autogol fatto solo per esperimento che pesa come un macigno. Ho capito, sì, ma non mi puoi mettere ogni punizione, ma sei... ma sei troppo forte! Out, out, viene esonerato subito, non fa neanche... neanche passa ai microfoni, mister Tocco. Out, out, viene esonerato subito, non fa neanche... ma sei... 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 ma